Il Dipartimento di Farmacia si è preso carico di organizzare questo evento, Farma Day, che è giunto ormai alla sua quinta edizione. L'evento è un incontro fra gli studenti e le aziende sul territorio regionale, nazionale, ma anche con apertura internazionale, che sono interessati alla preparazione dei nostri studenti per un inserimento nel mondo del lavoro. Ho portato la voce dell'ordine per spiegare quanto sia importante la formazione, non solo universitaria, ma anche post laurea, per poter dare un servizio farmaceutico adeguato sul territorio e ai cittadini. Non ci sono soltanto gli studenti del Dipartimento di Farmacia, l'evento è allargato a tutti quei corsi di laurea che possono avere un'attinenza con la parte biomedica del lavoro. Il cosmetico naturale ad oggi si inserisce molto bene nell'ambito della farmacia. Dietro un prodotto cosmetico fatto con serietà c'è un percorso scientifico che richiede l'intervento di persone altamente qualificate. Nasce Farmadei da un'iniziativa di Isuge, su una richiesta delle aziende specifiche che volevano incontrare gli studenti del nostro Ateneo dell'ultimo anno o appena laureati per instaurare un contatto e possibilmente un futuro rapporto di lavoro. La scuola superiore Iano Isuge è una delle strutture che vanno a sviluppare l'attività di formazione integrativa nell'Ateneo di Genova. In particolare si occupa di valorizzare le capacità di studenti capaci e meritevoli, cioè gli studenti migliori dell'Ateneo. Le aziende sono sempre cresciute in questi anni, oggi siamo arrivati a nove aziende, così come sono sempre cresciuti il numero di studenti che si è iscritto di anno in anno per partecipare a questo evento. Cadrion è una realtà internazionale che nasce in Italia e produciamo terapie plasma derivate per la cura di patologie particolarmente gravi e debilitanti. Siamo oggi presenti qui al Bio Pharma Day di Genova per il terzo anno di seguito. È sempre stata l'occasione per incontrare giovani e brillanti neolaureati. L'evento è articolato in due momenti, un momento di diffusione delle attività delle aziende che si svolge durante tutta la mattinata ed un evento di contatto vero e proprio fra gli studenti e le aziende che avviene con colloqui diretti che avvengono in sedi di collocazione disloccate, una per ogni azienda. Sono laureato in Biologia Molecolare e Sanitaria qui all'Università di Genova e adesso sono iscritto al corso di dottorato in Medicina Sperimentale. Sicuramente il Pharma Day è un'iniziativa dell'Università che consiglio a tutti i laureati in materie scientifiche che intendono intraprendere la loro strada in azienda, nelle aziende farmaceutiche, perché sicuramente è molto utile anche per conoscere il mondo delle aziende e poi anche avendo la possibilità di fare questi colloqui con i recruiters sicuramente si ha una chance, una possibilità. Questo è importante per le aziende perché creano un portfoglio di studenti dell'Università di Genova, è importante per gli studenti perché possono avere delle opportunità, è importante per gli studenti, per tutti gli studenti, non soltanto per quelli che avranno delle opportunità, perché è un modo di approcciare il mondo del lavoro, di farsi un'esperienza di un colloquio di lavoro con un'azienda e quindi di essere in grado di preparare un curriculum più incisivo e di porsi in maniera più efficace nei confronti del mondo del lavoro.